ooooh oooh oooh ooooh 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 guarda i denti non riesce a mangiare molto delicatamente ma non c'era i denti questo pure ce n'avrà 15 quando quella zampa piano piano lo sta mangiando questo è pure che è nato così alcuni nascono così si mangia piano piano prova a camminare un po devo fare il video con quella zampa quella quella si è meglio che prendi dove sta dove c'è la zampa prova a vedere quindi se cammina vogliamo mettere la pettorina vogliamo mettere la pettorina la pettorina la pettorina la pettorina eccolo piano piano guarda quella zampa piano piano Vedi Mimì? Vedi Mimì? Mio Dio! Vedi Chia, tocque-tocque-tocque a picco Lo abbiamo Screening- curated per giocare Ma mi posso scrivere mi? La mia qualità è proprio una paperella Una paperella, Gio Paper Moreno Pchildren, Gio Paperino Gio Paperone Ha okatare? Packerする Chia, di揃i Fantozzi Prendi un pochino il viso Lo chiamaste voi Fantozzi? No sta ancora pensando Si piano piano Lui va con calma Siamo ancora a zero Non siamo neanche a metà Mi fa schifo la consistenza Però gli piace E allora lo sputa Lo prende lo sputa Non sa nemmeno lui No infatti Mamma mia Non neanche perché Può essere che c'è qualche sfumato Come sapete? I gengiviti Con i denti così E' zio Charlie qua Come abbiamo detto? Zio Paperino Prendi quello Prendi quello Prendi quello Prendi quello Mamma mia Guarda quello Guarda quando è minuscolo Guarda la stampetta Ma tu chi sei? Guarda là Non ci vediamo Mamma mia Guarda le orecchie Però guarda anche lui Anche lui ha le zampette storte Mi piace dopo Gizzi Anche lui ha la zampetta così Ma lui Paperino? Zio Paperino Zio pure Zio vai Lo svecchiamo un po' Vogliamo provare a No lo dobbiamo Basta mangiare Dobbiamo fare un video dove non mangia Spostalo un attimo Glielo diamo dopo Eh glielo diamo dopo Guarda nooo Sta tre ore No spostalo No spostalo Si spostalo solo del virus Ah ok E ce l'hai un altro po' di virus del tu? No Allora aspetta Eh grazie Chiara Puoi Vierci A presto A presto A presto